Ciao a tutti! Oggi sono sempre io, Fante Miss. Oggi con noi ci sarà un nuovo amico, c'è il mio fratello Morgan! Buongiorno, io sono il fratello di Frida. Oggi mi aiuterà a fare una challenge! Questa challenge si chiama Unitudiche Yoga Challenge! Allora, iniziamo con la prima cosa, va no? Ok, ora l'abbiamo fatta! E abbiamo una mappa spazzoletta! Andiamo con la prossima! In questa parte Morgan si dovrà mettere a triangolo e io mi dovrò mettere qua. Opl! Oggi attira molto ragazzi! Non si vede ma attira! E l'ultima! Ok! Come avete saputo, c'è anche la musica di sottofondo! Beh, io vi saluto il vostro video! Vi invito un sacco di mele, soprattutto a quelli che si sono iscritti ai miei video! Li saluto! Non dimenticate di dare iscrivervi e mettetevi un mi piace e scrivetelo nei commenti! Se questo video vi è piaciuto! Vi adoro! Ciao! Ciao!